ciao a tutti oggi vi ho preparato una ricetta un po più chic del solito ma sempre super facile da preparare oggi vi propongo i miei gamberoni al brandy con una crema di piselli aromatizzata alla menta ecco a voi la ricetta completa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti a questo punto potrete decidere di lasciare o i gamberi così o se aromatizzarli al limone semplicemente dovrete aggiungere un po' di scorza di limone a poco spento e mescolare poi potete decidere se creare dei piccoli finger food oppure mettere semplicemente la crema su un piatto da portata e adagiarvi ci sopra i gamberi grazie a tutti grazie a tutti